Potrebbe stendersi fino ai bambini di 5 anni la platea dei soggetti vaccinabili. A far scorgere questa possibilità sono le due aziende Pfizer e BioNTech che il 20 settembre hanno comunicato gli incoraggianti risultati della sperimentazione del farmaco sui bambini dai 5 agli 11 anni. Il vaccino di Pfizer-BioNTech è considerato sicuro e ben tollerato dalle due case farmaceutiche anche in questa fascia d'età e i bambini partecipanti alla sperimentazione hanno mostrato una risposta immunitaria robusta. In una nota congiunta delle due aziende si legge che il dosaggio del siero somministrato ai minori di 12 anni è ridotto. Nella stessa comunicazione Pfizer e BioNTech affermano di voler chiedere l'approvazione normativa agli enti regolatori il prima possibile. La Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici ha stilato un report dal titolo Analisi del rischio i cambiamenti climatici in sei città italiane nel quale sono spiegate le principali modificazioni del clima che si sono verificate nel corso degli ultimi decenni nelle città di Napoli, Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Nel capoluogo partenopeo si sono registrati 50 giorni in più di caldo torrido all'anno rispetto ad inizio secolo. Nella città della Madonnina i giorni extra di calore sono stati 30, a Torino 29, nella capitale 28. Diversa ma altrettanto preoccupante la situazione in Laguna. Venezia ha visto il livello dell'acqua salire di 30 centimetri in soli 150 anni e in un decennio sono avvenuti 40 superamenti della soglia critica. Bologna invece è sempre più soggetta ad episodi di allagamento. Questi cambiamenti climatici sono dannosi sia per l'uomo che per l'ambiente poiché possono comportare dissesto idrogeologico e altri fenomeni di degradazione del suolo. Un aumento delle tasse sull'alcol potrebbe salvare 5.000 vite all'anno in Europa, lo dice uno studio effettuato e pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La ricerca ha rilevato che in Europa un gran numero di patologie oncologiche direttamente collegate al consumo di alcol e di morti per le medesime patologie potrebbero essere evitati se si decidesse di raddoppiare le attuali accise sulle bevande alcoliche. Le stime dell'ONS parlano di 10.700 nuovi casi di tumore e 4.850 morti all'anno che potrebbero essere scongiurati grazie a questa manovra di tipo economico, atta a disincentivare il consumo di alcolici. Sempre secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i paesi europei che trarrebbero maggior beneficio dal raddoppio delle attuali accise sulle bevande alcoliche sono Regno Unito, Russia e Germania, che assieme rappresentano il 40% delle potenziali vite salvate. Il mercato immobiliare residenziale è in rapida ripresa. Nel secondo trimestre del 2021 l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie a scopo abitativo di investimento è aumentato dell'1,7% rispetto al primo trimestre dello stesso anno, mentre è cresciuto dello 0,4% se confrontato con l'indice rilevato nello stesso periodo del 2020. Lo rende noto l'Istituto Nazionale di Statistica che sottolinea come l'aumento tendenziale dei prezzi delle abitazioni sia da attribuirsi in modo particolare all'aumento del prezzo delle abitazioni nuove, che segna un più 2%. Crescono dello 0,1% invece i prezzi delle abitazioni esistenti. L'andamento dell'indice dei prezzi fotografa la progressiva espansione che si sta verificando nel settore delle compravendite, che nel secondo trimestre del 2021 ha registrato un più 73,4%. La variazione si conferma marcata anche rispetto allo stesso periodo del 2019, con uno scarto del 26,1%.